L'avventura del fabbricante di colori a riposo Quella mattina Sherlock Holmes era di umore malinconico e filosofeggiante. Il suo temperamento energico e pratico andava soggetto a similire azioni. «L'ha visto?» mi chiese. «Allude al vecchio che appena è uscito?» «Precisamente.» «Eh sì, l'ho incontrato sull'uscio.» «Che impressione le ha fatto?» «Mi è sembrato una creatura patetica, frivola, spezzata dalla vita.» «Appunto, Watson, patetica e frivola.» «Ma l'esistenza non è tutta frivola e patetica?» «La sua vicenda non è forse un microcosmo del tutto?» «Tendiamo le mani, afferriamo e che cosa ci rimane alla fine?» «Un'ombra?» «O forse è peggio che un'ombra.» «L'infelicità.» «È un suo cliente?» «Sì, credo di poterlo chiamare tale.» «Mi è stato mandato da Scotland Yard, proprio come fanno di quando in quando i celebri dottori che spediscono i malati incurabili dai ciarlatani. Sostengono di non poter far più nulla per loro. E qualunque cosa accada, il paziente non si troverà, peggio di quanto già non stia.» «Che cosa gli è capitato?» Holmes prese dal tavolo un biglietto da visita, alquanto sudicio. «Giosiah Emberley dice di essere stato il socio giovane della Brickfell ed Emberley, fabbricanti di materiale artistico. Se ne vede spesso il nome sulle scatole di colori. Si era fatto un gruzzoletto, quindi si ritirò dagli affari all'età di 61 anni. Comprò una casa a Lewisham e si preparò a riposare dopo una vita di incessanti fatiche. Chiunque avrebbe potuto credere che il suo avvenire fosse in tal modo praticamente assicurato. «Già, infatti.» Holmes scorse rapidamente alcuni appunti che aveva scribacchiato sul retro di una busta. «Ritiratosi nel 1896, Watson, al principio del 1897, sposò una donna di vent'anni più giovane di lui. Una bella donna, inoltre, se la fotografia non mente. Benessere, una moglie, una vita d'ozio, tutto faceva pensare che davanti a lui si stendesse una via dritta. Eppure, nel giro di due anni, è diventato, come lei stesso ha visto, una delle creature più devastate e miserabili che arranchino sotto il sole. Che cosa gli è accaduto? È la solita vecchia storia, Watson, un amico traditore e una moglie infedele. A quanto sembra, Amberley ha un'unica passione nella vita, gli scacchi. Non lontano da lui, a Lewisham, abita un giovane medico, che è anche lui un giocatore di scacchi. Ne ho segnato il nome, si chiama Dottor Ray Ernst. Ernst era spesso a casa sua e ne è scaturita come naturale conseguenza un'intimità tra lui e la signora Amberley. Poiché bisogna convenire che il nostro disgraziato cliente ha poche attrattive esteriori, quali che possano essere le sue virtù nascoste. La coppia si è involata la settimana scorsa per destinazione ignota, ma quel che peggio, la sposa infedele, ha portato con sé come bagaglio personale la cassetta privata del vecchio, con buona parte dei suoi risparmi di una vita. Possiamo trovare la signora? Possiamo salvare il denaro? Problema banale per gli estranei, ma essenziale e vitale per Josiah Amberley. E che intenzioni ha in proposito? Ecco, la mia immediata domanda, caro Watson, è proprio questa. Che intenzioni ha lei? Ammesso che abbia la bontà di fare le mie veci. Sa che in questo momento sono occupatissimo col caso dei due patriarchi copti, che dovrebbe oggi stesso giungere a una conclusione. Perciò non ho assolutamente il tempo di recarmi agli Wisham. Eppure le testimonianze raccolte sul luogo hanno sempre un valore particolare. Il vecchio ha insistito molto per farmi partire, ma gli ho spiegato le mie difficoltà, perciò è pronto a ricevere un sostituto. Francamente, risposi, confesso che non vedo come posso esserle d'aiuto. Tuttavia cercherò di fare del mio meglio. Così fu che un pomeriggio d'estate partì alla volta di Wisham, ben lungi dall'immaginare che nel giro di una settimana l'oscura vicenda in cui mi stavo impegnando sarebbe corsa sulla bocca di tutta l'Inghilterra. Quando rientrai a Becker Street, per dar conto della mia missione, era già sera tardi. Holmes aveva allungato la sua magra sagoma nelle profondità dell'amata poltrona e dalla sua pipa uscivano lente spirali di fumo acre, mentre le sue palpebre si abbassavano così pigramente sugli occhi che si sarebbe potuto crederlo addormentato. Se non fosse che a ogni sosta, a ogni punto discutibile della mia relazione, si sollevavano a metà e le pupille grigie, luccicanti e puntute come fioretti, mi trafiggevano col loro sguardo inquisitorio. L'abitazione del signor Josiah Amberley si chiama Il Porto, spiegai. Credo che le interesserebbe, Holmes. Mi ha dato l'impressione di certi patrizi bisognosi finiti in compagnia di gente inferiore. Lei conosce quel quartiere, con le sue case di mattoni e le monotone strade suburbane. Proprio nel mezzo, come un isolotto di raffinatezza e cultura, sorge questa vecchia casa, circondata da un alto muro cotto dal sole, tappezzato di lichene e coronato di muschio. Quel caratteristico tipo di muro, bando alla poesia, Watson, mi interruppe severamente, Holmes. Ho capito che si tratta di un muro alto di mattoni. Precisamente. Non avrei saputo quale casa fosse il porto se non l'avessi chiesto a un tale che bighellonava nei paraggi fumando una sigaretta. Ho le mie buone ragioni per parlare di quest'uomo. È un tipo alto, Bruno, coi folti baffi, dal piglio alquanto militaresco. Ha fatto un cenno da senso in risposta alla mia domanda e mi ha lanciato uno sguardo stranamente interrogativo che mi è tornato in mente un po' più tardi. Ero appena entrato dal cancello e ho visto subito il signor Amberley scendere giù per il viale. Stamattina gli avevo dato solo un'occhiata e indubbiamente ne avevo ricevuto l'impressione di un tipo strano. Ma quando l'ho visto lì, in piena luce, ho capito che il suo aspetto era ancora più anormale di quanto avessi creduto. Naturalmente l'ho studiato anch'io, perciò non sarà interessato ad avere la sua opinione in proposito, disse Holmes. Mi ha fatto l'effetto di un uomo che le preoccupazioni hanno letteralmente piegato. Ha la schiena curva come se si trascinasse un pesante fardello. Non è però il tipo gracile che sulle prime avevo supposto perché ha spalle e torace da gigante, benché la sua figura si sfili sino a scomparire in un paio di gambe lunghe e sottili. Ha la scarpa sinistra tutta grinze, la destra invece liscia. Questo non l'ho osservato. No, non credo. Ma io ho capito che deve avere un'arto artificiale. Prosegua. Mi hanno colpito le ciocche sinuose di capelli brizzolati che gli uscivano a riccioli da sotto il vecchio cappello di paglia e la faccia dall'espressione avida, quasi feroce, tutta solcata di rughe. Ottimamente, Watson. E che cosa le ha detto? Ha cominciato dando la stura a una lamentazione sui suoi guai. Abbiamo fatto insieme il giro del viale e io naturalmente ho cercato di notare tutto con attenzione. Non ho mai visto un luogo così maltenuto. Il giardino era completamente inselvatichito e mi ha dato un'impressione di totale abbandono. Non so come una donna che si rispetti abbia potuto tollerare un simile stato di cose. Anche la casa è sciatta al massimo grado. Ma a quanto pare il povero uomo se ne è reso conto, poiché cerca di porvi riparo. Ho notato infatti al centro del vestibolo un grosso secchio pieno di vernice verde e quando il signor Emberley mi è venuto incontro teneva in mano un pennello. Stava verniciando la parte in legno della casa. Mi ha condotto nel suo studio malandato dove abbiamo avuto una lunga conversazione. Naturalmente si è mostrato dispiaciuto di non incontrare lei in persona. Certo non speravo, mi ha detto, che un umile individuo come me, soprattutto dopo la mia grave perdita finanziaria, potesse aspirare all'attenzione totale di una celebrità come il signor Sherlock Holmes. Gli ho assicurato che la questione finanziaria non aveva importanza. No, certo, per lui conta soltanto l'arte per l'arte, ha replicato. Ma qui avrebbe potuto trovare cose degne di essere studiate anche dal lato artistico del delitto. È la natura umana, dottor Watson, la nera ingratitudine che trapela da tutta la situazione. Quando mai mi sono rifiutato di accontentare un suo desiderio? C'è stata una donna più viziata di lei? In quanto a quel giovane, lo consideravo quasi un figlio. Gli avevo affidato la direzione della mia casa. Eppure, guardi come mi hanno trattato. Ah, dottor Watson, che brutto, brutto mondo. Questo è stato il suo costante ritornello per un'ora e più. Sembra che non nutrisse il minimo sospetto. Abitano soli, se non si tiene conto di una donna a ore che viene al mattino e va via ogni sera alle sei. In quella particolare sera, il vecchio Amberley, desiderando offrire un diversivo a sua moglie, aveva preso due biglietti in seconda galleria per l'iMarket Theatre. All'ultimo momento, la donna aveva detto di aver mal di testa e si era rifiutata di uscire. Allora, Amberley era andato da solo. Credo non ci siano dubbi sul fatto, poiché mi ha mostrato il biglietto non adoperato che aveva preso per sua moglie. Mmm, interessante, interessantissimo, disse Holmes, la cui attenzione pareva essersi risvegliata. Continui, la prego, Watson. Trovo che il suo racconto sia straordinario. Ha esaminato personalmente questo biglietto? Ne ha preso il numero per caso? Per una vera combinazione l'ho segnato, risposi con un certo orgoglio. Era il 31, il mio vecchio numero identificativo a scuola, ed è per questo che mi è rimasto in mente. Bravissimo, Watson. Il posto di lui, dunque, non poteva essere che il 30 o il 32. Certamente, ed era nella fila B. Molto bene. E cos'altro le ha detto? Mi ha mostrato la sua camera blindata, come la chiama lui. In realtà, sembra proprio la camera blindata di una banca, con porta ed imposta d'acciaio, a prova di scasso, mi ha assicurato. Sembra comunque che la donna avesse un duplicato della chiave, e tra lei e il giovane si sono portati via un valore di 7.000 sterline, tra contanti e titoli. Titoli? E come potevano sperare di servirsene? Mi ha detto di averne consegnato una lista alla polizia e che spera siano risultati invendibili. Tornato dal teatro verso la mezzanotte, ha trovato la cassaforte saccheggiata, la porta e la finestra aperta e i colombi scomparsi. Non avevano lasciato nessuna lettera, nessun messaggio, e da quel momento non ne ha più saputo nulla. Naturalmente ha subito avvertito la polizia. Holmes riflettè per alcuni istanti. Mi dice che stava verniciando e che cosa esattamente? Il corridoio. Però aveva già dipinto la porta e lo stipite della camera di cui le ho parlato. Non le sembra un'occupazione strana, date le circostanze. Bisogna pur far qualcosa che calmi lo spirito quando si è angusciati. Questa è la spiegazione che mi ha dato. Certo, la cosa mi è sembrata bizzarra, ma in fondo quell'uomo è tutto una bizzarria. Dalla punta delle scarpe alla radice dei capelli. In mia presenza ha strappato una fotografia della moglie. una vera tempesta di collera furiosa. Non voglio più vedere quella sua maledetta faccia, ha urlato. Ha altro da dirmi, Watson? Sì, sì, una cosa ancora che mi ha colpito più di ogni altra. Mi ero fatto portare in carrozza alla stazione di Blackheat e avevo preso il mio treno lì quando, proprio mentre si metteva in moto, ho visto un uomo precipitarsi nello scompartimento attiguo al mio. Lei sa che sono fisionomista. Era inequivocabilmente l'individuo alto e bruno al quale avevo rivolto la parola in strada. L'ho rivisto ancora una volta a London Bridge e poi l'ho perso tra la folla. Sono però convinto che mi seguisse. Certo, certo, disse Holmes. Un tizio alto, bruno, con folti baffi, dice, e un paio di occhiali da sole affumicati. Holmes, lei è un mago. Io non gliel'ho detto, ma aveva proprio un paio di occhiali da sole affumicati. E portava come spilla da cravatta un emblema massonico? Ma Holmes... È semplicissimo, mio caro Watson, ma pensiamo al lato pratico. Devo confessarle che questo caso, che sulle prime mi era apparso così ridicolmente semplice da non avere pressoché bisogno della mia attenzione, sta rapidamente assumendo un aspetto molto diverso. È vero che nella sua missione lei ha trascurato punti importanti, ma anche i dati che l'hanno colpita offrono ampia materia di riflessione. Che cosa mi sono lasciato sfuggire? Non si offenda, amico mio. Sa che sono del tutto imparziale. Nessuno avrebbe potuto far meglio, ma è evidente che le sono sfuggiti alcuni punti essenziali. Qual è l'opinione dei vicini su Emberley e su sua moglie? Certamente questo è un fattore importante. E il dottor Ernst? È davvero il seducente rubacuori che si vuol far credere? Grazie alle sue doti naturali, Watson, tutte le donne sono sue complici e assistenti. Perché non ha interrogato l'impiegata dell'ufficio postale e la moglie del fruttivendolo? Mi sembra di vederla, Watson, bisbigliare paroline gentili all'orecchio della signorina del Blue Anchor, ricevendone in cambio tangibili informazioni. Tutto ciò l'ha trascurato. Ma è ancora fattibile? È già stato fatto. Grazie al telefono e alla collaborazione di Scotland Yard, di solito riesco ad ottenere i dati che mi sono essenziali senza uscire nemmeno da questa stanza. In effetti, le mie informazioni confermano la versione di Amberley localmente gode fama di essere un avaraccio, oltre che un marito severo e pieno di pretese. Che avesse una forte somma di denaro in quella sua camera blindata è altrettanto certo. Così come è certo che il dottor Ernst, un giovane scapolo, giocasse a scacchi con il marito e probabilmente giocasse anche a farli imbecille con la moglie. Tutto questo mi sembra chiaro come il sole e si penserebbe che non vi fosse altro da aggiungere. Eppure... In che cosa consiste la difficoltà? Nella mia immaginazione, forse. Beh, lasciamo andare, Watson. Evadiamo da questo tedioso mondo prosaico attraverso l'uscita di sicurezza della musica. Carina canta stasera l'Albert Hall e abbiamo ancora il tempo di cambiarci, cenare e divertirci. Il mattino seguente ero alzato per tempo ma alcune briciole sparse di pane tostato e due gusci d'uovo vuoti mi avvertirono che il mio compagno si era alzato ancora più presto di me. Trovai sul tavolo un biglietto scritto affrettatamente. Caro Watson, vorrei stabilire ancora uno o due punti di contatto col signor Josiah Emberley. Fatto ciò potremmo abbandonare il caso oppure no. La pregherei di trovarsi pronto per le tre circa perché credo che avrò bisogno di lei. Sherlock Holmes Non seppi nulla di Holmes per tutta la giornata ma allora stabilita lo vidi tornare serio, preoccupato e assorto. Quando si trovava in quello stato d'animo era meglio lasciarlo solo. Emberley è già stato qui? No. Ah, lo aspetto. Non fu deluso perché di lì a poco il vecchio sopraggiunse con un'espressione angosciata e perplessa sulla faccia austera. Ho ricevuto un telegramma signor Holmes non ci capisco nulla. Gli porse il foglio e Holmes lesse ad alta voce Venga immediatamente posso fornirle informazioni circa la sua recente perdita Hellman il vicariato spedito alle 2.10 da Little Parlington aggiunse Holmes Little Parlington Si trova nel Lexus credo non lontano da Frinton Naturalmente lei partirà subito questo telegramma è stato spedito evidentemente da una persona responsabile dal vicario del luogo Dov'è la mia guida a Crockford? Ah ecco ci siamo JC Hellman dottore in lettere parrocchia di Mossburg e Little Parlington Dia un'occhiata ai treni Watson Ce n'è uno che parte alle 5.20 da Liverpool Street Benissimo sarà meglio che lei lo accompagni Watson può darsi che abbia bisogno di aiuto o di consiglio ritengo che siamo giunti a un punto critico in questa vicenda ma il nostro cliente non sembrava affatto impaziente di partire Ridicolo signor Holmes disse com'è possibile che quest'uomo sappia qualcosa di quanto è successo andarci secondo me è uno spreco di tempo e di denaro non le avrebbe telegrafato se non sapesse qualcosa gli risponda immediatamente per annunciargli il suo arrivo non credo che andrò Holmes assunse il suo atteggiamento più severo farebbe una pessima impressione tanto sulla polizia quanto su di me signor Emberley se si rifiutasse di seguire un indizio così ovvio avremmo la sensazione che in realtà questa indagine non le stia a cuore il nostro cliente parve inorridito al pensiero di una simile eventualità bene senza dubbio andrò se la mette su questo tono disse francamente mi si sembra assurdo supporre che questo curato possa sapere qualcosa però lei ritiene lo ritengo senz'altro replicò Holmes con enfasi e così ci imbarcammo nel nostro viaggio Holmes mi prese in disparte prima che lasciassimo la sala e mi fece una raccomandazione che mi dimostrò quanta importanza desse alla faccenda qualunque cosa accada sia certi che parta davvero mi disse se dovesse rifiutarsi o tornare indietro si recchi al primo centralino telefonico e invii una sola parola scappato fare in modo che mi pervenga dovunque mi trovi Little Parlington non è un posto facile da raggiungere poiché è situato su una linea secondaria il ricordo che ho di quel viaggio non è piacevole faceva un caldo infernale il treno procedeva come una lumaca e il mio compagno imbronciato e silenzioso apriva bocca solo per emettere di tanto in tanto un'osservazione ironica sulla futilità della nostra gita quando finalmente arrivammo alla stazioncina ci occorse una scarrozzata di tre chilometri per giungere al vicariato dove un ecclesiastico corpulento e solenne dall'aspetto alquanto pomposo ci ricevette nel suo studio aveva spiegato sul tavolo davanti a sé il nostro telegramma dunque signori ci chiese in che cosa posso esservi utile siamo venuti spiegai in risposta al suo telegramma il mio telegramma io non ho spedito nessun telegramma intendo il telegramma da lei spedito al signor Emberley a proposito di sua moglie e del suo denaro se questo è uno scherzo egregio signore mi sembra di cattivo gusto replicò erosamente il vicario non ho mai sentito parlare della persona da lei nominata e non ho mandato un telegramma a nessuno il nostro cliente ed io ci scambiamo un'occhiata di meraviglia ci sarà forse un errore dissi non esistono per caso due vicariati da queste parti eccole il telegramma in questione firmato Elman e intestato dal vicariato qui non esiste che un solo vicariato signor mio e un unico vicario e questo telegramma è un falso scandaloso sull'origine del quale chiamerò senz'altro la polizia a far luce nel frattempo non vedo un motivo plausibile per prolungare questo colloquio e così il signor Emberley ed io ci ritrovammo sul ciglio della strada in quello che mi diede l'impressione essere il villaggio più primitivo di tutta l'Inghilterra ci precipitammo all'ufficio del telegrafo ma era chiuso trovammo però un telefono al piccolo Raywell Arms e grazie a quello mi misi in comunicazione con Holmes il quale condivise il nostro sbalordimento sul risultato del viaggio stranissimo disse la voce lontana veramente straordinario ho una gran paura mio caro Watson che per stanotte non ci siano più treni di ritorno senza volerlo l'ho condannata agli orrori di una locanda di campagna comunque c'è sempre la natura Watson la natura è Josiah Amberley potrà stare a stretto contatto con entrambi e intesi il suo risolino secco mentre toglieva la comunicazione mi accorsi ben presto che la fama di avaro che circondava il mio compagno non era immeritata aveva borbottato per le spese del viaggio aveva insistito per viaggiare in terza classe e adesso elevava clamorose proteste per il conto dell'albergo troppo salato secondo lui quando finalmente tornammo a Londra il mattino successivo non so chi di noi due fosse di umore peggiore sarà meglio che passiamo da Becker Street dissi può darsi che Holmes abbia qualche notizia fresca se le sue notizie sono come le ultime che mi ha dato credo che mi serviranno a poco brontolò Amberley con un cipiglio tutt'altro che benevolo comunque mi seguì avevo già avvertito Holmes per telegramma dell'ora del nostro arrivo ma trovammo ad attenderci un messaggio in cui mi comunicava che si trovava a Hughisham e che ci aspettava laggiù questa era una sorpresa ma una sorpresa ancora maggiore fu quella di vedere che non era solo nel salotto del nostro cliente accanto a lui sedeva un uomo bruno dall'aspetto impassibile e severo gli occhi nascosti da lenti affumicate e un vistoso emblema massonico appuntato alla cravatta questo è il mio amico signor Berker disse Holmes si è interessato anche lui al suo caso signor Amberley benché lavorassimo indipendentemente tuttavia abbiamo la stessa domanda da rivolgerle Amberley si accasciò pesantemente doveva presagire un pericolo incombente glielo lessi nello sguardo fisso e nei tratti tremanti qual è la domanda signor Holmes semplicemente questa che cosa ha fatto dei cadaveri l'uomo balzò in piedi con un urlo rauco e annaspò agitando le mani ossute la sua bocca si era aperta e per un attimo assomigliò a uno spaventoso uccello da preda in un guizzo vedemmo il vero aspetto di Josiah Amberley demone deforme dall'anima contorta come il corpo mentre si abbatteva su una seggiola si portò una mano alla bocca come per soffocare un colpo di tosse ma Holmes gli saltò la gola con un balzo da tigre e gli volse la faccia verso il pavimento dalle labbra ansanti cadde una pallottolina bianca niente niente scorciatoie Josiah Amberley le cose devono svolgersi con ordine e in modo appropriato che cosa facciamo Berker ho una vettura alla porta rispose il nostro taciturno compagno ci sono soltanto poche centinaia di metri per arrivare alla stazione ci andremo insieme le resti pure qui Watson io sarò di ritorno tra mezz'ora il vecchio fabbricante di colori aveva una forza da leone in quella grossa mole ma nelle mani dei due esperti dominatori di uomini si ritrovò smarrito e senza energie venne trascinato mentre si torceva e divincolava sino alla carrozza ed io rimasi da solo a vigilare sull'infausta casa tuttavia Holmes tornò prima di quanto avessi previsto e in compagnia di un giovane ispettore di polizia dall'aria intelligente ho lasciato Berker a occuparsi delle formalità mi disse Holmes lei non conosce Berker Watson è il mio odiato rivale nella zona del Surrey quando mi ha accennato a un uomo alto e bruno non mi è stato difficile completarne il ritratto ha parecchi buoni case al suo attivo non è vero ispettore comunque si è mischiato più di una volta nelle nostre faccende rispose l'ispettore con riserva naturalmente i suoi metodi sono irregolari come i miei ma a volte gli irregolari possono essere molto utili voi altri per esempio col vostro obbligatorio avvertimento che qualunque cosa avesse detto sarebbe stata usata contro di lui non sareste mai riusciti ad ottenere da quel farabutto ciò che virtualmente può chiamarsi una confessione probabilmente no ma ci saremmo arrivati lo stesso signor Holmes non creda che anche noi non avessimo i nostri sospetti deve perdonarci se ci irritiamo quando si serve di sistemi che noi non possiamo usare scippandoci così ogni merito non ci sarà nessuno scippo ma che non le assicuro che da questo momento in avanti scomparirò e quanto a Berker non ha fatto che seguire le mie istruzioni l'ispettore parve notevolmente sollevato questo è molto generoso da parte sua signor Holmes l'odeo biasimo hanno poco significato per lei ma per noi la cosa è ben diversa quando i giornali cominciano a far domande certo tuttavia si può essere sicuri che di domande in questo caso ne faranno un sacco perciò converrà avere le risposte pronte che cosa dirà per esempio quando l'intraprendente intelligente cronista le domanderà quali siano stati di preciso i fatti che hanno risvegliato i suoi sospetti dandole infine il convincimento della verità l'ispettore parve perplesso per il momento credo che di elementi concreti non si possa ancora parlare signor Holmes è stato lei a dirmi che il prigioniero in presenza di tre testimoni ha praticamente confessato tentando di suicidarsi di aver assassinato la moglie e il suo amante di quali altri fatti al corrente ha predisposto una perquisizione ho già mandato sul posto tre agenti allora avrà ben presto il fatto più chiaro e lampante di ogni altro i cadaveri non possono essere lontani cerchi nelle cantine o in giardino non ci vorrà molto tempo a scavare in quei posti questa casa è più vecchia delle condutture deve esserci da qualche parte un pozzo fuori uso tenti lì la sua fortuna ma come è riuscito a capirlo e come è successo le mostrerò per prima cosa come è successo e in seguito le darò la spiegazione che merita e ancora più di lei merita il mio longanime amico qui presente che mi è stato di inestimabile aiuto vorrei però farle prima un rapido schizzo della mentalità del nostro criminale è del tutto insolita credo anzi che la sua destinazione sarà più probabilmente il manicomio criminale che non la forca lui possiede al massimo grado quella tipica mentalità che fa pensare più al despota medievale che al cittadino moderno è un avaraccio di primo ordine che ha reso talmente infelice la moglie con le sue angherie meschine da farla diventare facile preda del primo avventuriero di passaggio tale è stato appunto il medico giocatore di scacchi Amberley era fortissimo a scacchi segno caratteristico Watson di una mente calcolatrice come tutti gli avari era anche geloso e la sua gelosia era divenuta una follia frenetica a torto o a ragione ha sospettato un intrigo ha deciso pertanto di vendicarsi e ha ordito il suo piano con diabolica astuzia venite qua Holmes ci condusse lungo il corridoio sicuro come se fosse sempre vissuto in quella casa e si fermò sull'uscio aperto della camera blindata ah che tremendo puzzo di vernice esclamò l'ispettore è stato il nostro primo indizio disse Holmes può ringraziare di questo le doti di osservazione del dottor Watson sebbene lui non abbia pensato a trarne la corretta illazione è stato questo particolare a mettermi sulla pista giusta perché questo uomo in una circostanza così poco appropriata si andava riempiendo la casa di strani odori evidentemente per coprire qualche altro odore che desiderava celare qualche odore colpevole che avrebbe potuto risvegliare dei sospetti c'era poi il fatto di una camera come questa con porta imposta ad acciaio una camera ermeticamente sigillata mettete insieme questi due fatti e dove ci conducono non ho potuto accertarmene che spezionando personalmente la casa già non avevo dubbi che il caso fosse grave poiché avevo esaminato la pianta dell'imarket theater altro dato fornitomi dall'occhio di lince del dottor Watson e mi ero accertato che nel posto 30 nel 32 della fila B nella seconda galleria erano stati occupati quella sera pertanto Amberley non era stato a teatro e il suo alibi così cadeva ha commesso una grave svista quando ha consentito al mio astuto amico di notare il numero della poltrona riservata per sua moglie tramite un falso telegramma ho spedito il mio uomo nel più arretrato villaggio d'Inghilterra a un'ora tale che gli sarebbe stato impossibile tornare indietro nella stessa giornata per prevenire qualsiasi intoppo l'ho fatto accompagnare dal dottor Watson naturalmente ho scelto il nome del degno vicario a caso dalla mia guida Crawford sin qui la cosa le sembra chiara stupefacente disse l'ispettore in tono di timore e riverenziale eliminato così ogni rischio di interruzione ho proceduto a scassinare la casa il furto con scasso è sempre stato per me una professione di riserva se mi fossi curato di adottarla e sono quasi certo che vi sarei riuscito benissimo osservi quel che ho trovato vede la conduttura del gas qui lungo lo zoccolo bene si alza ad angolo retto col muro e qui c'è una chiavetta come può notare la conduttura corre sin dentro la camera blindata e termina in quella rosetta di stucco al centro del soffitto dove la decorazione la nasconde questa terminazione però è completamente aperta in qualsiasi momento girando la chiavetta esterna la camera può essere inondata di gas con la porta e l'imposta chiusa e la chiavetta completamente aperta non darei due minuti di vita cosciente a chiunque venga rinchiuso lì dentro con quale diabolico trucco amberley sia riuscito a condurvi due disgraziati non lo so ma una volta oltrepassata quella soglia sono stati alla sua mercè l'ispettore minestra della dispensa alle prime luci dell'alba quando mi sono sentito afferrare per il colletto e una voce mi ha detto ehi farabutto che cosa fai qua dentro appena ho potuto voltare la testa mi son visto davanti le lenti affumicate del mio amico e rivale signor Berker era una situazione molto curiosa che ci ha fatto sorridere entrambi sembra che sia stato assunto come investigatore privato dalla famiglia del dottor Ernst ed era giunto come me alle stesse conclusioni che sotto ci doveva essere dell'osco stava sorvegliando la casa da diversi giorni e aveva considerato il dottor Watson uno dei tipi più sospetti che fossero entrati qui naturalmente non poteva arrestare Watson ma quando ha visto un uomo che cercava di svignarsela dalla finestra della dispensa ha dovuto mettere da parte la sua prudenza io gli ho subito raccontato come stavano le cose e abbiamo proseguito insieme nell'esame del caso ma perché lui perché non noi perché avevo in mente di eseguire quella piccola prova che ha funzionato in modo così perfetto non credo che voi avreste osato tanto l'ispettore sorrise beh forse no ma ho la sua parola signor Holmes che adesso lei si eclisserà pur comunicandoci ugualmente i suoi risultati certo è sempre stata la mia abitudine bene la ringrazio a nome di tutto il corpo di polizia il caso mi sembra ormai chiarito e non avremo certo molta difficoltà a ritrovare cadaveri le mostrerò una prova alquanto macabra disse Holmes e sono sicuro che deve essere sfuggita allo stesso Amberley si ottengono sempre buoni risultati rispettore mettendosi al posto della controparte e pensando a quel che faremmo noi se fossimo nei panni di un altro per far ciò occorre un po' d'immaginazione ma ci si guadagna sempre ammettiamo ora che lei fosse rinchiusa in quella camera che avesse due soli minuti da vivere ma che volesse vendicarsi del criminale che probabilmente l'avrà derisa dall'altra parte dell'uscio che cosa farebbe scriverei un messaggio appunto cercherebbe di far sapere in che modo sta per morire non le servirebbe scrivere su un pezzo di carta poiché il suo assassino lo vedrebbe se scrivesse invece sul muro qualche sguardo potrebbe cogliere il suo messaggio ma ecco guardi qui proprio sullo zoccolo è scritto con una matita viola indelebile siamo sta non l'altro ebbene ebbene è a soli 30 centimetri dal pavimento quando ha scritto quelle due parole il poveraccio era terra moribondo ha perso i sensi prima di poter terminare stava scrivendo siamo stati uccisi questa almeno è la mia interpretazione se troverete sul cadavere una matita indelebile la cercheremo stia certo ma a quei titoli evidentemente non c'era stato alcun furto eppure Amberley li possedeva effettivamente abbiamo verificato la cosa senza dubbio li avrà nascosti in qualche posto sicuro non appena il subbuglio della fuga si fosse quietato ne sarebbe improvvisamente rientrato in possesso magari annunciando che la coppia colpevole si era pentita e aveva rimandato il plico oppure lo aveva abbandonato per strada a quanto sembra una risposta pronta per ogni obiezione disse l'ispettore certo Amberley non poteva fare a meno di venire da noi ma perché sia venuto da lei non riesco a comprenderlo per pura vanteria rispose Holmes si sentiva così furbo così sicuro di sé che gli pareva impossibile che qualcuno potesse scoprirlo avrebbe potuto ribattere a qualsiasi vicino sospettoso guardate quanti passi ho tentato ho consultato non soltanto la polizia ma persino Sherlock Holmes l'ispettore rise dobbiamo perdonarle il suo persino signor Holmes disse è l'impresa più brillante che io ricordi un paio di giorni più tardi il mio amico mi gettò sul tavolo una copia del bisettimanale Not Surrey Observer sotto una serie di titoli fiammeggianti che cominciavano con l'orrore del porto e terminavano con brillante indagine di polizia una fitta colonna di stampa dava la prima relazione coerente della vicenda il paragrafo conclusivo diceva l'acume veramente notevole grazie al quale l'ispettore McKinnon arguito dall'odore di vernice che un altro odore per esempio di gas potesse essere dissimulato l'audace deduzione che la camera blindata poteva anche costituire la camera della morte e la successiva perquisizione che ha portato al rinvenimento dei cadaveri in un pozzo fuori uso abilmente celato da una cuccia di cane resteranno nella storia del crimine come un esempio luminoso dell'intelligenza dei nostri poliziotti professionisti bene bene McKinnon è un buon diavolo concluse Holmes con un sorriso indulgente può archiviare il caso tra i nostri incartamenti Watson un giorno la vera storia potrà essere raccontata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.